Perfetto ragazzi eccoci qua per un'altra presentazione, intanto colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che stanno appunto seguendo questo canale, più i diversi iscritti eccetera eccetera, è un grande piacere, perfetto ragazzi, allora vediamo un po' sempre richiesta da parte del gruppo alcune persone che hanno un po' di difficoltà nel raggiungere un potenziale di tensione fissa, o meglio in poche parole, se io avessi chiaramente il mio alimentatore ho bisogno di una tensione non so di 9V, prendiamo la stessa tensione ad esempio dei nostri due trasformatori, che è quella che poi ci servirà, perfetto, ho 9V, devo raggiungere il mio la VN, quindi la tensione di alimentazione che interessa a me è di 9V, se ho già l'alimentatore pronto che mi esce 9V con la sua determinata corrente, ok, non c'è nessun problema, chiaramente ho bisogno di quella tensione e quella determinata corrente, allora se io ho già l'alimentatore pronto non c'è nessun problema, ho anche adattatore quindi, cosa si chiama, con trasformatore a nucleo ferrico, perfetto, in quel caso lì sono tranquillo, ma nel caso io vorreste appunto raggiungere in questo caso, ok, facciamo appunto 9x2, ok, 9V e 9V, per cui 9x18, devo raggiungere i miei 18V, ok, con una determinata corrente, ok, bene, come cavolo faccio? Posso usare il trucchetto di abbinare i due trasformatori insieme, solo se i due trasformatori sono perfettamente identici, cioè che hanno le stesse identiche caratteristiche, a dir la verità dicono, dicono, che praticamente io posso stare anche, posso avere anche una differenza tra i due di 10V in potenza, non oltre, per cattimenti poi, iniziano a causarsi, a crearsi degli scompensi su entrambi i trasformatori e particolarmente sull'avvolgimento secondario, ok, nel caso il mio trasformatore fosse un trasformatore, chiaramente, mono, si chiama, e, mono, tensione, anche se il mono tensione suona da schifo, ok, unico ramo di tensione di uscita, o multiramo di tensione di uscita, perfetto, perfetto, bene, Per cui, se il trasformatore è leggermente più grosso, io posso abbinarlo, chiaramente, in ingresso della rete entro chiaramente in parallelo, ovviamente, per cui automaticamente la tensione è la stessa, ma la corrente si divide su entrambi i due trasformatori, ok? Perché se invece gli attacco in serie, come uno magari può pensare, sì, funziona allo stesso, peccato che però i due trasformatori ricevono la metà di tensione, abbiamo la caduta di tensione sui due trasformatori di 220, vabbè 230, ok, diviso 2, per cui 115 a testa, E per cui il nostro trasformatore sul primario non riceve più la tensione esatta di 230 V, ma riceve, cioè, esattamente la metà, e di conseguenza in uscita non ho più la tensione adatta, giusta, perché la tensione in ingresso, chiaramente, che si rapporta poi per induzione sul secondario, è più bassa, e per cui automaticamente in uscita ottengo la tensione più bassa, ok? Per cui, in parallelo, l'ingresso a tensione di rete, ok? E se io poi voglio ottenere, voglio sommare la corrente, chiaramente metterò in parallelo anche l'uscita dei due trasformatori, questo con questo, quello con questo, perfetto. E invece, se io voglio sommare solo la tensione, per cui facendo 9 per 2, 18 V, metto in serie i due trasformatori, ok? Questo con questo, e poi l'uscita degli altri due capi, per cui da questo capo ho la tensione, e da questo capo ho l'altro, capito? Semplicemente. Bene, perfetto. Una cosa però importantissima, io sono in alternata, perché i nostri amici trasformatori escono sempre in alterna, per cui automaticamente, se voglio collegarli in parallelo, e voglio collegarli in serie o in parallelo, appunto, automaticamente dovrò trovare la fase. Per cui, una volta trovata la fase di uno e dell'altro, combino, combino, ma che brutto termine, non mi piace, unisco chiaramente fase di uno con fase dell'altro, perfetto, nel caso fosse in parallelo. E nel caso, invece, fosse in serie, prendo la fase di uno, adesso sto prendendo una a caso, va bene, non so neanche io qual è la fase, perché non sono collegati. La fase di uno lo collego con il neutro dell'altro, per cui avrò una fase di uscita da una parte e il neutro dall'altra, ok? Questo è molto, molto importante questo passaggio, perché io potrei automaticamente collegare, se lo faccio in parallelo, magari non lo so, per cui, con la nostra apparecchiatura, automaticamente vedo la fase e il neutro, ok? Perfetto. E quindi, automaticamente, potrei fare confusione, perché prendo la fase e magari la collego con il neutro di uno, ma io lo sto collegando in parallelo, per cui devo rispettare la fase, dato che usciamo in alternata. Questi sono i semplici errori che si possono fare, ok? Ragazzi, perfetto, spero di aver detto tutto quanto. Se ci sono altre domande, scrivetemi pure sotto, scrivetemi nel gruppo, sarà un piacere rispondervi. E niente, attenzione a questo particolare qua, io rispetto, devo rispettare la fase, altrimenti poi si hanno dei problemi in uscita. Io vado ad alimentare un carico e c'è qualcosa che non va, e c'è qualcosa che non va, perché io non ho rispettato le fasi di uscita di ciascun trasformatore. Perfetto, ci vediamo nella prossima puntata.